Cuore di topo, capitolo 50. Se un gatto vuole un pesce, deve bagnarsi le zampe. Vengo lasciato cadere su una superficie metallica. Sbircio fuori dal sacchetto. Mi trovo nello sgabuzzino del signor Brofi. Vedo il suo secchio con le rotelle e i contenitori di detersivi chimici. Signor Brofi, chiama una voce familiare all'esterno del ripostiglio. Posso parlarle un momento? Certo, dottor Lebetter, risponde il signor Brofi. Arrivo subito, signore. Sento il cigolio delle scarpe del signor Brofi e le sue chiavi tintinnare quando esce. Scivolo fuori dal sacchetto del pranzo, mi lascio cadere sul pavimento e mi chino oltre lo stipite della porta per spiare il signor Brofi e il lungo camice chiamato dottor Lebetter. La prego di fare attenzione, signor Brofi, al fatto che è stato innalzato il livello di allerta e abbiamo quindi attivato i sensori d'allarme su tutte le finestre e le porte, inclusa quella alle mie spalle. Quella, mi dicono, che lei è solito lasciare socchiusa mentre pulisce questo pavimento. È per i topi, spiega il signor Brofi. Pensavo che un po' d'aria fresca gli facesse bene. Comunque sia, questa porta e tutte le altre all'interno della struttura devono restare chiuse a chiave fino al cambio di turno delle tre. Oh oh, se il signor Brofi non lascia aperta la porta sul retro, come farà il mio esercito di cinquemila topi a invadere l'edificio? Dovrò liberare la mia famiglia da solo? E anche se riuscissi a farlo, come faremo a scappare in 97 se ogni porta o finestra che cercassimo di aprire farà scattare un allarme? Nessun problema, professore, risponde il signor Brofi al dottor Lebetter. Ma se posso chiederlo, perché tutta questa agitazione? La guardia in servizio all'ingresso mi ha appena avvisato di aver incontrato un attivista per i diritti degli animali che tentava di entrare in questa struttura. La ragazza sulla bicicletta? Sospettiamo si tratti di una spia. Lei quindi non apra questa porta in nessun caso. No, signore professore. Il signor Brofi estrae una chiave con una specie di calotta quadrata di plastica nera. La chiave, insieme a un'altra dozzina attaccate allo stesso anello, è agganciata alla sua cintura con un filo estensibile. Lo vedo infilare la chiave nella serratura e girarla con decisione. Davvero niente male come missione di salvataggio. Sono in trappola, rinchiuso di nuovo nel luogo orribile, senza che il mio esercito di topi abbia la possibilità di entrare. Devo trovare Benji, lui saprà cosa fare. Mentre il signor Brofi non guarda, scivolo fuori dallo sgabuzzino e mi intrufolo nella stanza dove tenevano me e tutta la mia famiglia chiusi in quelle scatole di plastica. Ma le scatole sono state tutte sostituite da gabbie di metallo inserite in scaffali a rotelle. Benji, sussurro. Nessuna risposta. Abe, Winnie. Niente. Forse stanno tutti dormendo, esausti dopo un'altra serie di esperimenti. Mi arrampico sullo scaffale di prigioni più vicino per dare un'occhiata da vicino. Oh no! Le gabbie sono vuote. La mia famiglia è sparita. Cuore di topo. Capitolo 51. La necessità genera l'ingegno, ma come madre non è molto gentile. Non so che fare. La mia famiglia è sparita, scomparsa. Forse sono tutti morti o forse sono stati spediti a un altro laboratorio l'anima per altri tipi di esperimenti. Quell'articolo trovato da Eli diceva che ci sono laboratori lamina sparsi per tutto lo Stato, anzi per tutto il paese. Devo pensare. Pensare, 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 pensare. Ok, le porte di questo laboratorio lamina sono chiusa a chiave. Il mio intero esercito di 5.000 topi è fuori, bloccato in un pick-up arrugginito e io sono di fatto tornato prigioniero. Ricordate quel perfido cane da guardia di cui vi raccontavo? Quello di cui ho imitato il latrato per spaventare Lucifero? Sta annusando qua e là tra le fila di gabbie, seguendo il mio odore. Mi vede, ma non abbaia né dall'allarme. Se ne resta lì a ringhiare e a mostrarmi le sue zanne lucenti. Il Doberman pensa di spaventarmi per farmi rientrare nella mia gabbia, anche se in realtà non ne ho più una. Decido di fargli provare un po' la sua stessa medicina, per così dire. Abbaio esattamente come farebbe lui. Il cane da guardia è sbalordito, confuso. Colgo la palla al balzo e scappo. Sfreccio fuori dalla stanza delle gabbie e mi precipito nel corridoio più vicino. Al cane da guardia basteranno pochi secondi per riprendersi dallo shock. Devo trovare un nascondiglio sicuro, in fretta. Svolto un angolo e più avanti vedo una finestra che emana un bagliore sinistramente familiare. È la stanza blu, il luogo più orribile di tutto il luogo orribile. La ricordo nei miei incubi. Ricordo anche che nessun animale del laboratorio, compresi i cani da guardia, voleva mai avvicinarsi a quella stanza. Perché la stanza blu è dove i lunghi camici svolgono il loro sporco lavoro. Ci pungevano coi loro aghi, ci attaccavano elettrodi sulla testa e sulla coda e dovunque volessero. Non importa quanto fosse doloroso. La porta è leggermente socchiusa. Vedo una lama di luce blu che ne esce. Mi infilo dentro. Il cane da guardia non vorrà mai seguirmi. Sa cosa succede dietro questa porta chiusa e non è affatto piacevole. Non lo è neppure quello che vedo dentro la stanza blu. Tutti i miei fratelli e sorelle si stanno dimenando dentro a contenitori sigillati accatastati contro il muro. Compongono un arcobaleno serpeggiante di scintillanti colori al neon a causa della luce ultravioletta che illumina la stanza. Li inietteremo uno alla volta, dice un uomo basso con un camice da chirurgo. I suoi guanti di gomma brillano sotto la luce nera. Iniziamo da quello rosso, dice il lungo camice alto. Oh no, no, no! È Abe! Il lungo camice alto digita qualcosa sulla tastiera di un computer. Aprire il contenitore R258. Davanti alla gabbietta di Abe una lucina rossa diventa verde. La porta si apre. Poi l'altro cattivo afferra per la coda un terrorizzato e recalcitrante Abe e lo tira fuori dalla gabbia. Cuore di topo. Capitolo 52. Non si lascia indietro nessuno. Il tecnico di laboratorio stringe Abe in una mano e una siringa nell'altra. Sta per iniettare qualcosa di orribile nel mio fratello preferito. Devo fare qualcosa di stupido, insensato e pericoloso. Fermatevi! Grido. Gli uomini non sentono i suoni ultrasonici, ma cerco di tenere la voce a una tonalità sufficientemente bassa da farmi sentire. E funziona! I due umani smettono di fare quello che stavano facendo e si guardano attorno nella stanza. Cercano di capire chi ha gridato con quella voce minuscola e dove si trova. Lasciatelo andare! Strillo. Guardano in basso. Mi vedono. È B97! Esclama il lungo camice basso. Quello che era scappato! Rimetti quello rosso nella sua gabbia, gli dice il collega. Prendi quello blu. Rimettono Abe nella sua gabbia di plastica. La chiudono. La lucina verde torna rossa. Isaia! Le spesse pareti della sua gabbia di plastica smorzano la voce ultrasonica di Abe, ma io riesco a sentirla anche se gli umani no. Isaia! Bentornato a casa! Grida Winnie con una voce che solo i topi possono sentire. Pensavo fossi scappato! Grugnisce Benji. Pensavo fossi un codardo. Ti sbagliavi, gli rispondo. Poi, utilizzando la mia voce umana, grido più forte che posso. Siete dei mostri! Sa parlare? Chiede il cattivo alto. Aspetta che lo sappia il dottor Letbetter. I due uomini mascherati piombano su di me. Io schivo la loro presa. Se pensano che un topo parlante sia una cosa straordinaria, ora vedranno cosa sto per fare. Quando mi mancano per la seconda volta, salto sulla tastiera di computer sulla quale stava digitando l'umano alto. Danzo sui tasti più in fretta che posso e scrivo questo. Aprire tutto. Ogni singola lucina rossa davanti alle gabbie di plastica diventa verde. Le porte delle prigioni si aprono. I miei fratelli e sorelle saltano fuori dalle gabbie e si precipitano giù. Tutti e 96, ho fatto un rapido conteggio, si sparpagliano da tutte le parti. I due tecnici di laboratorio cercano di chiudere la strada alla mia colonia, ma hanno dimenticato quanto ci hanno resi svegli, rapidi e intelligenti. Dirigetevi alla stanza sul retro, dico ai miei fratelli e sorelle. E poi cosa? Chiede Benji. Tiro un profondo respiro e pronuncio la parola che ho imparato a dire dal primo momento in cui l'ho sentita cantare a Michaela. Libertà. Faccio un altro balletto sulla tastiera. Salto sul blocco maiuscole perché stavolta sto davvero gridando. Aprire stanza blu. La porta si spalanca. I miei fratelli e sorelle sfrecciano fuori. I due lunghi camici non li inseguono. Sono troppo occupati a guardarmi sbalorditi. Li distrango ancora un po' nella speranza di dare alla mia famiglia un po' di vantaggio verso la porta sul retro. Continuo a digitare. Quel vituperabile xenofolo zelante assaggia il whisky ed esclama alleluia. Ha appena utilizzato tutte e 26 le lettere dell'alfabeto in una sola frase esclama uno. Digito ancora qualcosa. Si chiama pangramma idioti. Prendilo dice l'altro. Oh oh! E se fossi l'unico topo che viene lasciato indietro? Cuore di topo. Capitolo 53. Un piano che non può essere cambiato è un pessimo piano. Chiudi la porta! Si gridano a vicenda i due tecnici. Salto giù dal supporto a rotelle del computer. Piombo sul pavimento e parto a razzo verso la porta. I due umani mi sono alle spalle. Mullino le zampe più in fretta che posso ma lo fanno anche i due giganti. A momenti uno mi calpesta. Il più rapido dei due tecnici raggiunge barcollando la maniglia della porta e la afferra. Sta per chiuderla. Il pollice è già pronto ad azionare il pulsante della chiusura chiave. C'è ancora però una fessura sottilissima spessa quanto una busta mentre la porta si sta chiudendo. trattengo il fiato tiro indietro la pancia e mi c'infilo a malapena. La mia coda fa appena in tempo a uscire prima che io senta la porta chiudersi sbattendo alle mie spalle. Sento anche il clatunk del chiavistello che scatta. Riaprila grida uno degli uomini nella stanza blu. Sta scappando riapri la porta. Dietro di me sento un tintinnio metallico mentre i due tecnici armeggiano con il chiavistello e la maniglia. Davanti a me ho via libera. Attraverso di corsa il corridoio svolto a destra e mi precipito nella stanza vicino all'uscita sul retro dove scopro tutti i miei fratelli e sorelle inseguiti per tutto il pavimento da un imbufalito signor Brofi. Cuore di topo capitolo 54. Non sbagli mai finché non smetti di provare. Un piano grandioso Isaia grida Benji sarcastico spedirci verso una porta chiusa e sprangata. Geniale fratellino, geniale! Il signor Brofi non può sentire mio fratello maggiore ma è perfettamente in grado di colpire Benji con la sua scopa. Per fortuna Benji è agile e veloce. Schiva le setole appena in tempo. Ma ha ragione. Il mio piano è ridicolo. A meno che non trovi un sistema per prendere le chiavi del signor Brofi e aprire la porta posteriore. Quindi faccio un'altra cosa che non avrei mai immaginato di fare. Metto le zampe a coppa attorno al muso e grido al signor Brofi. Ehi! Sbalordito lascia cadere la scopa e si inginocchia per scrutarmi da vicino. Tu sei quello che è scappato dice. Accidenti dovrei, ma prima che possa fare qualcosa, salto da terra e atterro sul suo ginocchio piegato. In preda al panico, lui inizia a girare freneticamente in cerchio e a colpirsi da solo, come fosse aggredito da uno sciame d'api. Mi tengo forte. Scendimi di dosso, lurido sorcio. Non faccio caso all'insulto. Affondo gli artigli nel tessuto dei suoi pantaloni da lavoro verdi e mi esso sulla sua gamba fino a raggiungere la cintura e l'anello delle chiavi agganciato. Mi serve un po' d'aiuto, grido. Delfinia, formate una torre. Delfinia, la mia sorella Viola, è fortissima. Chiama con un fischio gli altri acrobati della famiglia e 15 topi ginnasti formano rapidamente una torre che si alza per una sessantina di centimetri dal pavimento. Si trova a metà strada tra la porta e me. Chesia, che nella parte superiore del corpo ha più forza di chiunque altro nella colonia, può sollevare un sacco di zucchero, è appollaiata sulla cima. Afferro l'anello di chiavi del signor Brofi. Ehi, grida lui, lascialo stare. Gli sibilo contro, una cosa che ho imparato a fare dal suo perfido gatto. Quando lo faccio, gli occhi del signor Brofi rischiano di schizzargli fuori dalle orbite. È paralizzato dalla paura. Abe, Winnie, grido. Piramide, vicino alla porta, su, fino alla serratura. Va bene, fratello, grida Abe di rimando. Lui e Winnie organizzano rapidamente il resto della famiglia in una torreggiante piramide di topi. Adesso è il mio turno di fare l'acrobata. Pronta? Chiedo a Chesia. Lei annuisce e mentre delfini attiene ancorata la base, l'intera scala inizia a ondeggiare, avanti e indietro, avanti e indietro. Quando hanno preso un po' di abbrivio, salto dal fianco del signor Brofi e afferrando con le zampe l'anello di chiavi come un trapezista, mi libro a mezz'aria. Il filo che tiene le chiavi attaccate alla cintura si estende liberamente. Chesia mi afferra le zampe anteriori. Lei e tutta la torre di topi mi fa oscillare energicamente in avanti, verso la porta. Mi inarco. Mi alzo in volo verso la cima della piramide. Sento il filo spezzarsi. È tutto ok. Ho ancora l'anello di chiavi ficcato tra le zampe. E senza il filo estensibile non c'è niente che mi possa rallentare o tirare indietro. Devo solo fidarmi che Abe e Winnie, posizionati in cima alla piramide, mi prendano. La porta mi sta venendo addosso a tutta velocità. Chiudo gli occhi un attimo prima dell'impatto e sento delle zampe familiari afferrarmi e stringermi forte. Cuore di topo, capitolo 55. Le cose vanno nel migliore dei modi per quei topi che tirano fuori il meglio da come vanno le cose. Dottor Ledbetter, grida il signor Brofi. Professore! L'uomo delle pulizie corre fuori dalla stanza. Dobbiamo sbrigarci, commento. Il dottor Ledbetter è il pezzo grosso. Farà di tutto per tenerci imprigionati qua dentro. Ci sono un sacco di chiavi, si lamenta Winnie, studiando il mazzo nell'anello del signor Brofi. È questa, dico io, indicando la chiave con la calotta quadrata di plastica nera. L'ho visto chiudere la porta. La prendo. Abe e Winnie mi danno una spinta e io cerco di infilare la chiave nella serratura. Fatto! Grido quando la chiave si infila nell'ingranaggio. Adesso non ti resta che girarla, conclude Abe. Afferro un lato della chiave con le zampe anteriori. Quando la stringo tra i denti, spiego, afferratemi le zampe e saltate di lato. Questo ci darà la torsione necessaria per girare la chiave. Capito! Grida Winnie. Continuando a tenere stretta la chiave, ora la mordo anche. Deve funzionare. È la nostra unica possibilità, penso disperatamente. Abe e Winnie mi prendono una zampa, poi saltano giù dalla piramide di topi. Li sento pendere pesantissimi dalla mia zampa, ma il punto è proprio questo. Il nostro peso combinato gira la chiave e apre la porta. Con autentico sollievo mollo la presa e tutti e tre precipitiamo sul pavimento. Fortunatamente tutti i topi ginnasti della torre di Kezia sono corsi ad afferrarci. Kezia mi prende e mi culla tra le zampe. Con una sola zampa, Delfinia prende Abe e Winnie. I nostri fratelli e sorelle vedono che siamo sani e salvi e scendono dalla piramide. Ce l'hai fatta? Grida Abe. No, rispondo. Noi ce l'abbiamo fatta. Sbrighiamoci. Dobbiamo aprire la porta. Spingiamo tutti quanti. La mia intera colonia, tutti e 97, corre alla base della porta. Spingiamo tutti. Non si sposta. Spingiamo di nuovo. Niente. Per aprirla dovete tirare, dice una voce umana alle nostre spalle. Ci voltiamo. È il dottor Ledbetter. I due tecnici della stanza blu sono con lui e anche il signor Brofi. Evidentemente non vi abbiamo dato l'intelligenza necessaria per capire la differenza tra una porta che si apre spingendo e una che si apre tirando, ridacchia il dottor Ledbetter. Ci sono solo due modi per aprire quella porta. Il primo è afferrare la maniglia e tirare, ma non credo che qualcuno di voi pesi abbastanza da produrre la forza necessaria. Il secondo è avere qualcuno sul lato opposto che ve l'apra spingendo, ma la sola persona sull'altro lato di quella porta è Tom, una delle mie guardie migliori. Dietro la porta sento una muta di cani che abbaiano. Beh, guarda un po', sogghigna il dottor Ledbetter. Sembra che Tom si sia portato dietro alcuni dei suoi amici canini. Continuando a sogghignare, il dottor Ledbetter si china a studiarmi. È bello rivederti, B97. I miei colleghi mi dicono che ultimamente hai sviluppato delle capacità davvero insolite, capacità che non sapevo di averti conferito. Non vedo l'ora di aprirti e vedere cosa succede dentro quel tuo minuscolo cervello blu. Sebbene il terrificante dottore stia parlando di dissezionarmi il cranio, io non batto ciglio. Mando invece un messaggio ultrasonico alla mia colonia. Allontanatevi dalla porta. I miei fratelli e sorelle si dividono a metà e silenziosamente si portano ai lati dell'uscita. Poi mando un altro messaggio ultrasonico. Il grido di battaglia che ho concordato con Gabriel. Liberate i prigionieri! Fuori si sente un grido fortissimo e uno sbattere metallico. A quanto pare, mentre ero occupato nel laboratorio, il mio esercito di topi ha trovato il modo di aprire il portellone posteriore del pick-up del signor Brofi. E immagino che non abbia alcun problema ad aprire una porta non più chiusa a chiave. Cuore di topo. Capitolo 56 I bastoncini stretti in un fastello sono indistruttibili. I cani dall'altro lato della porta sono i primi a fuggire. Terrorizzati dal gigantesco nubolo di topi guaiscono e filano via di corsa. Sento anche Tom, la guardia, strillare di paura. Dal volume calante delle sue grida capisco che sta scappando anche lui. Un colpo sordo e la porta d'acciaio si incurva alla base. Ancora! Sento gridare Gabriel. Altra carica delle truppe, altra incurvatura. Qualcuno deve girare la maniglia della porta. Penso ad alta voce. Lanciami lassù, Kezia. Lei mi afferra sotto le zampe e mi scaglia verso il cielo come una lanciatrice del peso. Atterro sulla maniglia, mi ci avvolgo sopra con tutto il corpo e le do un'energica rotazione verso destra. Ma non succede niente. Non sono abbastanza pesante da far girare la maniglia. Più veloci della luce, i miei fratelli e sorelle capiscono il problema e accorrono in aiuto. Come hanno fatto prima, Abe e Winnie saltano ad afferrarmi per le zampe, dandomi la forza necessaria a girare la maniglia verso il basso. Fuori, l'esercito si catapulta un'altra volta contro la base della porta. Mi tengo aggrappato disperatamente nel momento in cui la porta si spalanca con violenza, rischiando quasi di uscire dai cardini. 5.000 topi si riversano nella stanza e circondano rapidamente i quattro cattivi, paralizzati dallo stupore e dalla paura. Dopo tutto quello che hanno fatto noi topi, hanno ragione ad avere paura. Ci sono così tanti topi, marroni, bianchi e grigi, a inondare il pavimento che i coloratissimi membri della mia famiglia scompaiono del tutto alla vista. Noto che sulla faccia del dottor Ledbetter il sorrisetto è completamente scomparso, mentre lui indietreggia terrorizzato dal mare di topi ai suoi piedi. Poi, sopra gli squittii di 5.000 topi, si alza una voce nuova. Vedete, grida qualcuno fuori, non ci sarebbero topi qui? Vi hanno mentito, agenti! Beh, indovinate un po' chi appare sulla porta con un'intera squadra di umani in uniforme blu scuro? Eili. Mi individua nella moltitudine. Ho chiamato il 911, mi dice, agitando il suo cellulare. Mi tocco il cuore con una zampa. Non avendo a disposizione una tastiera, è l'unico modo che ho per ringraziarla. Bene, 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 dottor Ledbetter, interviene una donna con una giacca a vento blu che sulla schiena ha stampata la sigla ASPCA in brillanti caratteri gialli. Lei ci aveva detto che non utilizzavate topi nel vostro laboratorio. Non li usiamo, infatti, biascica il dottor Ledbetter. E tutto questo come lo chiama? Chiede un uomo arcinio etarchiato. Dietro alla giacca ha le lettere PD. Non so cosa significhino le sigle ASPCA e PD, ma sono molto contento che siano qui. Questo, risponde il dottor Ledbetter, indicando il pavimento invaso da migliaia di topi squittenti, brulicanti e mordicchianti, è quello che definisco un grave caso di infestazione da parassiti. Il mio personale di servizio stava appunto per chiamare i disinfestatori. Esatto, conferma il signor Brofi, stavo appunto per farlo. Bene, dice l'uomo con la scritta PD sulla schiena, sarà la vostra unica telefonata consentita. Dalla prigione. Mentre gli umani discutono e si gridano dietro a vicenda, decido che è venuto il momento che le mie due famiglie se ne vadano dal luogo orribile una volta per tutte. Mi rivolgo a Deili. Le dedico un allegro saluto militare. Lei risponde al saluto. Ci vediamo a casa, mi dice. Mamma ha comprato un'altra torta di briciole. Io faccio ondeggiare le sopracciglia, come mi ha insegnato mio fratello Rodolfo. Poi mando un segnale ultrasonico che mi riempie il cuore di felicità. Seguitemi tutti quanti. 5.097 topi escono di corsa dalla porta posteriore, attraversano la piattaforma di carico, saltano dal bordo e seguono la mia via di fuga segreta attraverso le fognature, fino alla libertà. Cuore di topo, capitolo 57. Un vero amico è quello che arriva quando il resto del mondo se ne va. Quella sera, nel giardino sul retro della casa di Ailey, la presento ai miei fratelli e sorelle. Questo è mio fratello e il mio migliore amico Abe, digito sul portale che lei ha aperto su un tavolo da picnic. Ailey sorride, ammirando Abe. È così... rosso? Davvero fico e diverso. Sì, digito, è l'unica cosa che abbiamo tutti in comune. Siamo tutti diversi. I topi naturalmente sono creature molto sociali. I miei fratelli e sorelle hanno già conosciuto tutta la famiglia di Michaela e gli anziani si sono affrettati a proclamarci tutti una sola grande colonia felice. Forse ci vorrà un po' perché i miei fratelli si abituino alle loro nuove vite e a una tana sconosciuta, ma so che sono felici e grati di essere stati salvati. Faranno tutto il possibile per dare il loro contributo alla nostra nuova meravigliosa colonia e con le nostre particolarissime capacità possiamo essere di grande aiuto. Dopo essersi sistemati, i miei familiari hanno voluto conoscere Ailey, la simpatica umana che ci ha aiutato a evadere. Anche lei voleva conoscerli. Siete tutti davvero straordinari, esclama Ailey dopo che i ginnasti della famiglia le hanno offerto una breve dimostrazione dei loro talenti acrobatici. Vorrei che altre persone si rendessero conto di quanto siete incredibili. Scuoto la testa e digito ho conosciuto molti umani e sono tutti uguali, eccetto te naturalmente. Dobbiamo solo presentarvi in un modo che non li faccia spaventare, insiste Ailey. Trovare un topo nella tua torta di briciole può lasciarti di stucco, non credi? Annuisco sorridento. All'improvviso si mette ad agitare le mani con aria eccitata, spaventando alcuni membri della mia famiglia. Mi è venuta un'idea grandiosa, anzi più che grandiosa, un'idea spettacolare. A quanto pare domenica nella chiesa che lei frequenta ci sarà una benedizione di animali. Tutti i parrocchiani portano i loro animali e il prete li benedice, è una grande festa, voi dovete assolutamente esserci. Intendi tutti noi? Digito. Ok hai ragione, vedere centinaia di topi che zampettano tra le panche della chiesa potrebbe mandare fuori di testa qualcuno. Che ne dici di te Micaela, Gabriel, Abe e Winnie? Dobbiamo metterci eleganti? Chiedo, perché dopo tutto è sempre una chiesa. Ailey sorride. Magari un pochino. Cuore di topo. Capitolo 58. Le nostre vite saranno pure diverse, ma sono anche uguali. Arriva domenica e io abborrisco nel modo più assoluto il completino che Ailey ha scelto per me. Abborrisco, detto per inciso, è un modo educato per dire che lo odio. Ma non lo dirò mai ad Ailey. Sono piuttosto affezionato alla mia prima amica umana. Ci nascondiamo nello zainetto di Ailey e andiamo in chiesa con lei e i suoi genitori. Non sono mai stato in una chiesa prima d'ora, ma è meravigliosa. Quando Ailey prende posto in una panca, sbircio fuori dal risvolto dello zainetto per esaminare la folla. La chiesa sembra una versione in miniatura dell'Arca di Noè, una delle storie bibliche che preferisco, perché è piena di animali, compresi due topi. I fedeli hanno portato ogni genere di animali da compagnia a questa particolare funzione. Vedo cani di ogni forma e misura, gatti tenuti al sicuro dentro a gabbiette, grazie molte, criceti, porcellini d'India, conigli, pesci rossi, pappagallini. Vedo persino un asino e un uomo in piedi dietro di lui con un badile in mano. Ailey si china e mi sussurra. Immagino che voi altri vogliate andare a conoscere gli altri animali, vero? La guardo con un'espressione che dice possiamo? Certo, risponde lei. Forza, siete animali, questa è la vostra giornata. Vedo un criceto due file più indietro che mi ricorda un lontano cugino di secondo grado. Mi arrampico fuori dallo zainetto. Michaela, Gabriel, Abe e Winnie mi vengono dietro. È davvero stupendo, osserva Michaela. Tutta questa gente ama gli animali. Immagino che non tutti gli umani somiglino a quei farabuti del laboratorio, aggiunge Abe. Tutti e cinque imbocchiamo rapidi il tappeto della navata centrale. Dei gran sorrisi stampati sulla faccia e boom! Come sempre succede, succede. Ah, topi! Le grida, i salti sulle panche. Il solito. C'è una chiesa piena di amanti degli animali, i quali in teoria dovrebbero benedire e festeggiare gli animali e adesso vanno fuori di testa per cinque topolini. D'accordo, tre di noi hanno dei colori un po' strani, ma insomma, tutto ciò avvalora ancora una volta la mia teoria. Non importa con quanto impegno ci proviamo, né quali imprese straordinarie compiamo, noi topi saremo sempre dei reietti in questo mondo. Scommetto che perfino Noè non fu tanto felice di vedere due di noi salire la passerella della sua arca. Gli umani ci odiano, lo hanno sempre fatto, sempre lo faranno. Cuore di topo. Capitolo cinquantanove. Al buio tutti i gatti sono grigi. Eili risale di corsa alla navata centrale, ci raccoglie uno per uno e ci rimette nel suo zainetto. Poi, credeteci o no, si incammina dritta verso il leggio, dove l'umano con la veste lunga stava per iniziare a parlare. Mi scusi, padre Ed, ma devo dire qualcosa alla congregazione, è una cosa importante. Prima che padre Ed le dia il permesso, Eili afferra il microfono. Buongiorno a tutti. Prima che padre Ed benedica i nostri animali, voglio dire qualcosa sulle creature più piccole tra quelle in mezzo a noi. Quelle di cui canteremo più tardi uno dei miei inni preferiti, Tutte le cose belle e luminose. Fu scritto nel 1848, quindi l'avremo già cantato tante di quelle volte da non ascoltare nemmeno più ciò che ci dice il testo. Permettetemi di rinfrescarvi la memoria. Sfoglia un libro pieno di note musicali e inizia a leggere. Tutte le cose belle e luminose, tutte le creature grandi e piccole, tutte le cose sagge e meravigliose, il Signore le ha create tutte. La folla è silenziosa. Persino il pappagallo ha smesso di chiedere il suo cracker. Eili continua. Che ci crediate o no, di recente ho passato un po' di tempo in compagnia di creature estremamente grandi, che guarda caso sono anche estremamente piccole. Si mette una mano sulla spalla e io mi ci arrampico sopra. Questo piccoletto è Isaia. L'ho visto fare delle cose incredibili, soprattutto per aiutare i suoi fratelli e sorelle. È una creatura saggia e meravigliosa. Mi appoggia sull'Eggio, in modo da far scendere Micaela dallo zainetto. E questa coraggiosa signorina è Micaela. Non ha avuto paura di frequentare un tipetto blu dall'aria strana, come Isaia, malgrado tutti i suoi amici siano marroni, grigi o bianchi. Perché Micaela è così gentile e comprensiva nei confronti di chi ha un aspetto diverso? È il prete, padre Ed, a rispondere alla domanda di Eili. È meravigliosa anche lei. Eili annuisce. Anch'io sono diversa, se non l'avete notato. E sapete una cosa? Lo siamo tutti. Come mi disse una volta il mio saggio e meraviglioso amico Isaia, siamo tutti diversi. È la sola cosa che abbiamo in comune. Il prete si schiarisce la gola. Lui te l'ha detto? Oh sì, risponde Eili. Isaia sa fare delle cose davvero incredibili. Parlare, digitare, aprire porte chiuse a chiave. Mentre dalla congregazione si alza un forte e sbigottito morborio, Eili afferra il microfono e lo abbassa fino a pochi millimetri dai miei baffi. Coraggio Isaia, facciamo vedere a tutti quanto sei speciale. Sto per gridare crocchette, quando Eili mi suggerisce, canta quella canzone di cui mi hai parlato. Quella che ti ha cantato Micaela quella sera nel mio cappuccio. Guardo Micaela. Su fallo, mi dice, ti aiuterò io. Ma non riusciranno a sentirti. A stento sentiranno a me. Non importa. Io canterò per te, Isaia. Tu vienimi dietro e basta. E questa volta non gridare. Canta. Mi metto davanti al microfono. Mi schiarisco la gola. La folla resta bocca aperta. Nessuno di loro ha mai visto un topo schiarirsi la gola. Micaela e io saltiamo la parte sui topi che vanno a zonzo al chiaro di luna e intoniamo direttamente il ritornello. Puoi essere alto come un gigante. Puoi essere debole o esile come una piuma. Le nostre differenze non fanno differenza. Su tutti splende l'identica luna. Sulle loro panche alcuni degli umani si mettono a piangere. Guardo Micaela. La sua voce è talmente splendida che vorrei non fosse ultrasonica. Allora tutti in questa chiesa saprebbero come deve essere il paradiso. Bene, dice padre Ed quando ho finito. Grazie, Stamattina stavo per fare un sermone sulla tolleranza e sulla necessità di amare tutte le creature di Dio per quanto diverse possano sembrare. Ma le tue parole sono state più efficaci di qualsiasi cosa avrei potuto dire io. La funzione prosegue. I miei amici e io veniamo benedetti. Neppure l'asino si mette in ridicolo quando tocca a lui. Nel complesso è una splendida domenica mattina. Fuori dalla chiesa una vecchietta dall'aria dolce si china verso Eili e le sussurra divertiti coi tuoi amici topi canterini ma ricordati portano germi di ogni genere mia cara. Eili sorride e rivolge alla signora una delle mie risposte preferite in assoluto. Può darsi ma lo facciamo anche noi perché in fin dei conti nessuno di noi è poi molto diverso dagli altri. Cuore di topo. Epilogo. A un tratto mi si avvicina Abe. Sai Isaia il discorso di Eili mi ha fatto pensare. Se siamo tutte creature di Dio grandi e piccole allora tutti noi animali siamo una specie di grande famiglia non credi? Suppongo di sì anche se non passerei la cena del ringraziamento assieme a una tigre probabilmente sarei io la sua cena. Perché me lo chiedi? I suoi baffi iniziano a torcersi come capita sempre quando non vuole dirti qualcosa. Che cosa c'è Abe? Chiedo. Beh quando sei scappato e io ero ancora nel luogo orribile ho sentito una conversazione tra alcuni lunghi camici e c'è un altro laboratorio Lamina non lontano da qui Isaia. Un posto in cui fanno cose perfino peggiori di quelle che facevano a noi. Inizio a provare quell'impeto familiare di ingiustizia e indignazione. Altri animali che vivono nella sofferenza e nel terrore? Voglio aiutarli. Devo aiutarli. Forse è proprio a questo che servono tutti i miei talenti speciali. A salvare chi ne ha bisogno. Vuoi dire che ci sono altri topi in pericolo? Un'altra colonia da salvare? Facciamolo. Poche settimane fa ero il più grosso vigliacco della mia colonia ma da allora ho imparato molto su come superare le mie paure specialmente se ci sono altre vite in pericolo. Abe scuote la testa. Non topi ma altri animali. Come hai detto siamo tutti una grande famiglia perciò meritano di essere salvati anche loro giusto? Annuisco con decisione. Naturalmente nessuna creatura dovrebbe essere soggetta a una vita così orribile. Ti do la mia parola che gli aiuteremo. Cosa sono? Conigli? Cavie? Criceti? Lui si guarda attorno per assicurarsi che nessun altro senta quello che sta per dire. No Isaia non Criceti. Gatti. In cosa mi sono appena andato a ficcare? Vorrei potermi fare una risata e dire a Abe che è impazzito che rischieremmo la vita per dei gatti che ci mangerebbero nell'istante stesso in cui fossero di nuovo liberi. Che sono delle creature malvagie che non farebbero mai la stessa cosa per noi. Che noi non li andremo a salvare. Ma ho dato la mia parola che avrei aiutato tutte le creature che ne avessero bisogno. E come sapete un topo mantiene sempre la sua parola.